Aumentano i disturbi del comportamento alimentare e si abbassa l'età media in cui si manifestano. Può succedere già dagli 11-12 anni, ce lo dicono ai servizi adolescenti dell'ospedale Santa Giuliana, dove abbiamo cercato di capire a cosa sono dovuti. Innanzitutto la cosa che c'è da precisare è che viviamo in un contesto socioculturale che dà molto valore all'estetica e alla presentazione del corpo e quindi questo sicuramente è un fattore molto scatenante. Poi ci possono essere varie cause come cause traumatiche, ci possono essere delle situazioni di disagio che portano alla luce e il sintomo alimentare che se ne fa in qualche modo portavoce di una situazione di disagio più allargata. Anche situazioni di limitazione come queste amplificano alcuni disturbi? Assolutamente, perché i ragazzi sono privati di tutte le relazioni col gruppo dei pari che sono quelle più preziosi e fondamentali per la loro crescita nella fase adolescenziale e quindi l'isolamento diventa molto faticoso ed è molto doloroso. Al servizio adolescenti dell'ospedale ci sono 15 posti e le richieste di ricovero sono raddoppiate nel 2020. La lista d'attese è attualmente di due mesi. Arrivano da diverse regioni d'Italia per ricevere un aiuto adatto a questa fascia d'età perché qui si cerca sia di curare il disturbo che di aiutare i ragazzi a sviluppare il proprio potenziale. Cerchiamo di ricostruire i motivi personologici, il funzionamento dei ragazzi sulla base dei sintomi che mostrano, se loro muovono in modo di muoversi in gruppo, delle osservazioni che fanno i familiari, quindi nell'ambiente esterno come i ragazzi funzionavano. E quindi facciamo un'ipotesi sui motivi e da questa ipotesi, dalle risorse e dai problemi, mettiamo insieme un progetto terapeutico. Gli adolescenti sono coinvolti in diverse attività personalizzate, individuali e di gruppo. Sono sempre seguiti da professionisti. In questo periodo c'è anche chi frequenta la scuola a distanza. Oltre a questo il servizio coinvolge le famiglie che diventano parte integrante del percorso di guarigione. Quanto è importante poi nella cura coinvolgere le famiglie? È fondamentale, è prezioso. Basti pensare che gli studi attualmente dicono che la terapia con la famiglia è proprio la terapia più specifica in assoluto per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Quindi è importante coinvolgerli, è importante comunicare insieme ed è anche perché le famiglie hanno sempre un punto di vista molto prezioso che integra quello clinico e quindi è assolutamente fondamentale. Grazie.